Musica Benvenuti al TG10, l'apertura del telegiornale, oggi la dedichiamo alla generosa catena di solidarietà che si sta sviluppando in Italia in favore di un pensionato giolese che rischia la morte per la mancanza nelle farmacie di un medicinale una farmacista del Palermitano è stata la prima a mettere a disposizione i residui di magazzino del farmaco due scatole, cioè sei compresse che spedirà all'indirizzo del paziente giolese, vediamo Una generosa catena di solidarietà si sta sviluppando in tutta Italia in favore del pensionato giolese che rischia la morte per la mancanza nelle farmacie di un medicinale lo zentele compresse da 400 mg capace di tenere in letargo la echinococosi cistica di cui affetto da anni Una farmacista di Corleone, Rosa Binenti, è stata la prima a mettere a disposizione i residui di magazzino del farmaco due scatole, cioè sei compresse che spedirà all'indirizzo del paziente giolese ma un aiuto molto più consistente giungerà dalla farmacia del Policlinico di Palermo che ha comunicato ad aver accertato una disponibilità ospedaliera di quasi 400 scatole del prodotto tuttavia non è possibile erogarlo all'esterno dovrà essere il servizio di malattie infettive di Gela ad inviare il paziente per una consulenza specialistica presso il Policlinico Palermitano dove da ricoverato potrà essere assistito con la somministrazione del prezioso medicinale La soluzione per tutti gli ammalati italiani affetti da questa patologia però viene prospettata dall'Agenzia Italiana del Farmaco, l'AIFA che comunica di avere già rilasciato alcune autorizzazioni per l'importazione dall'estero del farmaco Slavavita la cui produzione è stata sospesa dalla Glaxo nello scorso mese di agosto e comunicata a settembre alla stessa AIFA Nelle prossime 48 ore dovrebbero essere completate le verifiche in corso per accertare la disponibilità del prodotto I tempi necessari per un ritorno alla normalità però non sembrano inferiore a 30-40 giorni e dunque coincidono con la ripresa della produzione annunciata dalla Glaxo per il mese di marzo Cambiamo argomento e adesso occupiamoci della situazione di degrado ed abbandono in cui versano due parchi giochi a Gela, uno dei quali lo scorso mese di dicembre è stato vandalizzato da mani ignote Lo scorso 17 dicembre, dunque un mese ed una settimana dietro, le nostre telecamere vi hanno mostrato la devastazione commessa da sconosciuti e danni del parco urbano che sorge in via Pitagora nella zona di Piano Notaro a Gela C'erano i giochi che teppisti senza scrupoli hanno raso al suolo un parco infestato da atti vandalici e da giovani irresponsabili Alcuni giorni dopo il servizio alcuni residenti della zona hanno scritto una lunga lettera di denuncia pervenuta alla nostra redazione rimarcando la presenza quotidiana di quelli che gli stessi residenti hanno ribattezzato come assalitori che tutto distruggono Da quel servizio televisivo sono passati 40 giorni e nulla è accaduto Tutto è rimasto com'è, i giochi rotti sono sempre lì attorniati dall'erbacce Adesso alcuni consiglieri comunali hanno investito del caso il sindaco Attendono risposte immediate anche per il parco giochi che si trova in Viale Enrico Mattei a Macchitella Questa interrogazione sui parchi giochi nasce dal fatto che sia quello di Piano Notaro che di Viale Enrico Mattei sono in condizione disastrata Già la vostra emittente in passato aveva fatto un servizio in questo senso ma nulla è successo Oggi i consiglieri comunali, San Mito, Napolitano, Caruso e gli altri firmatari dell'interrogazione vogliono l'amministrazione affinché con l'arrivo della bella stagione possa permettere ai bambini, ai loro nonni, alle famiglie di poter soffrire di quei pochi parchi giochi che sono presenti nella nostra città L'intergruppo consigliare, rivolgendosi al sindaco, sottolinea che il mancato intervento nelle due strutture rappresenta una mancanza di rispetto per la gente che vorrebbe recarsi proprio ai parchi Bisogna intervenire con una piccolissima ed ordinaria manutenzione Anche in via Redi c'era prima esistente un parco giochi che oggi è proprio inesistente e non c'è nulla Quindi voglio dare forza a questa interrogazione affinché l'amministrazione si impegni fin da subito a ripristinare lo stato di fatto di questi parchi giochi in modo da dare la possibilità a quei bambini che vogliono andare a passare mezzogiornata con queste belle giornate di sole nella tranquillità più assoluta E ora parliamo della protesta degli studenti che frequentano l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato Enrico Fermi di Gela La strada di accesso alla scuola infatti in occasione del mercato settimanale del martedì è invasa da auto in sosta e in transito Vediamo Il mercato settimanale del martedì che sorge in Contrada Marchitello a Gela creano pochi problemi agli studenti che frequentano l'Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato Enrico Fermi La strada di accesso alla scuola infatti è invasa da auto in sosta o in transito che più delle volte impediscono il regolare afflusso degli alunni e non solo Oggi sono stati proprio due ragazzi che frequentano la scuola a denunciare il problema Il traffico non è fluibile come dovrebbe Abbiamo molti problemi sia nell'entrare a scuola in orario infatti veniamo spesso richiamati oltretutto in caso di soccorso immediato non avremo la possibilità di uscire e trovare uno sbocco per quantomeno arrivare in tempo e diciamo sul luogo perché appunto il traffico è abbastanza denso a causa appunto della locazione delle bancarelle del mercato settimanale che sono quasi davanti al cancello dell'Istituto Del problema è stato investito il Consiglio Comunale l'esponente di Forza Italia, Salvatore Scerra Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni abbiamo toccato con mano il problema martedì quindi ieri mattina abbiamo visto che effettivamente qui davanti c'è un traffico pazzesco, caotico abbiamo visto che le bancarelle sono messe già quasi davanti al cancello di entrata dell'ingresso dell'Istituto e quindi è un problema serio, un problema di sicurezza e un problema di via di fuga e fortunatamente fino a quando non succede niente tutto va bene adesso comunque anche i ragazzi ci hanno chiesto di intervenire abbiamo chiesto insieme agli altri consiglieri comunali che sono qui presenti oggi con me di avere un incontro con l'assessore della Polizia Municipale con il comandante della Polizia Municipale in modo tale che possano essere effettuati più controlli martedì prossimo e lasciare libero l'ingresso e quindi dare possibilità ai ragazzi, agli studenti quindi ai professori e anche ai genitori di poter usufruire dell'ingresso in maniera molto fluida lo scrittore Andrea Camilleri sarà gelese ad honorem il sindaco Domenico Messinese dopo aver condiviso la sua determinazione con la Commissione Consiliare alla Cultura ha trasmesso gli atti al Consiglio Comunale che dovrà deliberare ufficialmente la cittadinanza onoraria al padre del commissario Montalbano non è solo un attestato di stima quello che tributerà il comune di Gela a Camilleri lo scrittore Empedoclino infatti all'inizio della sua carriera quando ancora era impensato il grosso successo dei suoi romanzi ricevette il suo primo premio letterario proprio a Gela era l'aprile del 1981 e Camilleri venne premiato per un filo di fumo edito da Garzanti il miglior amico dello scrittore Empedoclino Federico Effer risiede a Gela ha detto il primo cittadino e al loro rapporto d'amicizia è dedicato un libro scritto da due giornalisti gelesi ed è uscito lo scorso anno insomma, dice Messinese sono numerose le ragioni per cui la città non può non tributare la sua riconoscenza ad un acuto osservatore della nostra Sicilia nei suoi pregi e nelle sue contraddizioni le famiglie residenti nel comune di Gela possono presentare istanza per l'ottenimento del sostegno per l'inclusione attiva la misura di contrasto alla povertà prevede un sussidio economico ai nuclei familiari economicamente svantaggiati subordinato all'adesione ad un progetto personalizzato di attivazione sociale e lavorativa possono presentare in stanza le famiglie economicamente svantaggiate nelle quali siano presenti minorenni figli disabili o donne in stato di gravidanza accertata con un'isee inferiore o uguale a 3.000 euro i cittadini interessati in possesso dei requisiti richiesti e che non abbiano già inoltrato istanza potranno continuare a presentare le domande direttamente al protocollo generale del comune di Gela per scaricare l'avviso e il modello dell'istanza è possibile consultare il sito del comune oppure ci si può rivolgere all'ufficio di segretariato sociale in viale mediterraneo aperto al pubblico dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 13 e il martedì e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30 Via libera al regolamento di aiuto alle fasce deboli per il pagamento di tributi comunali con la forma del baratto amministrativo la misura verrà applicata in forma volontaria ai cittadini che hanno i tributi comunali non pagati sino al 31 dicembre dell'anno precedente iscritti al ruolo e non ancora regolarizzati coinvolti i settori comunali al bilancio, ai servizi sociali e ai lavori pubblici Abbiamo messo in campo questo strumento che dà alla città ma soprattutto alle fasce deboli di questa città un'opportunità in più che è quella praticamente di poter ovviare a quella che è l'odiata in posta comunale o li odiate in poste comunali attraverso una controprestazione chiamiamola così che poi consiste in piccole manutenzioni di stabili comunali o in pulizie magari di verde pubblico In questa direzione ci siamo mossi abbiamo trovato ieri sera il Consiglio Comunale disposto anche a votarlo questo atto e diamo alla città uno strumento più ma soprattutto alle fasce deboli di questa città Adesso ci siamo dotati del regolamento che era indispensabile e necessario ovviamente per partire dopodiché dobbiamo mettere in capo tutta una serie di atti necessari ad individuare i soggetti e i destinatari attraverso quello che sarà il settore dei servizi sociali insieme al settore poi ai lavori pubblici individuare un minimo di cantieristica per far sì che sostanzialmente tutti i cittadini ma soprattutto quelli che vivono in difficoltà economiche di poter ovviare al pagamento come dicevo poc'anzi del tributo attraverso quella che è una propria e libera prestazione che danno alla città Un altro tassello che si unisce a tutta una serie di piccoli provvedimenti importanti però che sanno appunto provando ad aiutare la situazione insomma dei cittadini gelesi che certamente in questo momento verso in situazioni molto particolari è un aiuto concreto ovviamente che insieme alla farmacia sociale insieme a tutti gli altri provvedimenti che stiamo adottando come amministrazione con fondi interni dare la possibilità dei cittadini gelesi di un supporto concreto per fare in modo di poter uscire da una fase contingente economica sociale particolare e che potrà insomma essere sicuramente un supporto fattivo nei confronti della cittadina i prossimi 27 e 28 gennaio dalle 9 presso l'auditorium dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela si trarrà un seminario di studi accreditato dall'ordine professionale degli assistenti sociali dal titolo Manager case dell'anziano fragile si parlerà di strategie di gestione e di intervento socio-sanitarie alla cura e alla riabilitazione delle fragilità dell'anziano all'evento formativo parteciperà Ferdinando Schiavo neurologo e autore del libro Malati per forza l'iniziativa è della fondazione Antonietta e Salvatore Aldisio modererà i lavori Vincenzo Cascio anche i cittadini gelesi con un indicatore della situazione economica equivalente pari o inferiore a 8.107,5 euro possono accedere al bonus relativo al sistema di gestione delle agevolazioni sulle tariffe energetiche il valore è stato innalzato di circa 1.000 euro grazie ad un decreto del ministero e dello sviluppo economico resta invariato a non oltre 20.000 euro di ISEE il requisito di accesso per le famiglie numerose per presentare domanda di agevolazione per il bonus energia è possibile utilizzare l'ISE standard o ordinario o l'ISE corrente valido due mesi nel caso in cui siano intervenute variazioni significative nella situazione reddittuale fai la cosa giusta differenzia i rifiuti mantieni il decoro urbano della nostra città oggi mercoledì dalle 22 alle 5 depositare davanti alla propria abitazione gli imballaggi in plastica e metallo multimateriale nell'apposito sacco trasparente cosa conferire? plastica piatti e bicchieri monouso in plastica bottiglie di acqua e bibite flaconi taniche dispenser e tubetti vuoti per detergenti detersivi shampoo e dentifricio prodotti per l'igiene della persona e della casa baschette contenitori buste e sacchetti per alimenti imballaggi in polistirolo reggette stringipacchi blister reti e cassette per frutta e verdura contenitori con sigle PET PVC PPP PS cosa conferire metalli lattine per bevande scatole e lattine in banda stagnata contenitori in metallo pelati tonno mais cibo per animali contenitori di prodotti per igiene personale tappi coperchi e stampi per dolci in metallo carta in alluminio di uso domestico pulita contenitori in alluminio per alimenti puliti bombolette spray vuote non pericolose coperchi in alluminio degli yogurt lattine con il simbolo AL come conferire il multimateriale gli imballaggi in plastica assieme agli imballaggi in metallo alluminio banda stagnata e metalli vanno conferiti e puliti utilizzando l'apposito sacco trasparente un ambiente pulito e sano basta un piccolo gesto rieccoci seconda parte del telegiornale che apriamo parlandovi della mancanza di fondi comunali che non permetterà a Gela la realizzazione della terza edizione del Festival Internazionale di Cinema e Poesia Versi di Luce 2017 sfuma a Gela la terza edizione del Festival Internazionale di Cinema e Poesia Versi di Luce 2017 non ci sono soldi alcuna disponibilità economica da parte dell'amministrazione comunale l'iniziativa patrocinata dall'UNESCO dal Ministero per i Beni Culturali Direzione Cinema e dalla Federazione Italiana dei Circoli del Cinema non si farà l'amara constatazione dei fatti giunge direttamente dal Presidente del Circolo del Cinema Stella Maris Elio Cassarino ideatore delle due precedenti edizioni è un evento molto importante che l'amministrazione non può liquidare in così poco tempo noi abbiamo già instaurato un bellissimo rapporto con la Commissione Cultura presieduta da Luigi Di Dio già nel novembre scorso e abbiamo esplicitato quella che è l'importanza e il valore di questo festival sia a livello regionale perché è inserito nel circuito cinematografico regionale dei festival del cinema e sia a livello internazionale per cui un evento di particolare fascino di particolare levatura culturale ora l'assessore Rocco Darba ci ha liquidato in pochissimo tempo ci ha detto che non può sponsorizzare il festival perché sta lavorando in dodicesimi e per cui non ha il tempo per poter seguire queste cose e anche la Commissione Cultura non potendo avere disponibilità economiche anche quelli si sono ramaricati di non poter portare a termine questo bellissimo progetto Elio Cassarino lancia un appello pubblico al fine di trovare sponsor che possano sposare il progetto ed offrire anche un ampio magazzino in accomodato d'uso per tre giorni per proiettare cortometraggi e videopoesie mondiali Noi chiediamo all'amministrazione che valuti attentamente tutti i progetti e che comunque ci sia un rapporto più aperto più costruttivo in ogni occasione o in ogni evento culturale l'amministrazione comunale deve perseguire finalità culturali, artistiche, poetiche che devono venire incontro alla città ma per il vero bene della città non possiamo scendere a questi tatticismi o a questi giochi diciamo come dire lontani da quelli che sono il bene della città io chiedo noi chiediamo all'amministrazione di instaurare sempre durante tutto l'anno periodicamente un tavolo come dire di concertazione dove insieme studiare le strategie migliori per poter come dire migliorare l'offerta formativa e culturale di tutta la città chiediamo solo questo la pubblica assistenza Trinacria Emergency già a Giubbe d'Italia apre le istituzioni per diventare volontari presso la sede della pubblica assistenza in via Falcone incontrata a Brucazzi il 7 febbraio inizierà il nuovo corso gratuito teorico pratico per aspiranti volontari del soccorso aperto a tutti i cittadini di entrambi i sessi che abbiano compiuto almeno 16 anni durante il corso saranno trattati argomenti sanitari di primo soccorso protezione civile diritto conoscenza delle attrezzature dei presidi presenti sulle ambulanze e prove pratiche per informazioni c'è un numero telefonico 0933 91 44 19 si può inviare anche un'e-mail all'indirizzo di posta elettronica trinacria emergency chiocciola gmail.com oppure si può visitare la pagina facebook Trinacria Emergency Gela e sono aperte le iscrizioni per l'anno 2017 alla pubblica assistenza pro civis protezione civile di Gela le elezioni cominceranno mercoledì 1 febbraio alle 19.30 e si taranno presso la sala riunioni in via ossidiana 23 per informazioni si può chiamare la segreteria al numero telefonico 0933 9383 1 2 è stato nuovamente chiuso il viadotto san giuliano per verifiche in seguito all'eccezionale ondata di maltempo nei giorni scorsi la comunicazione arriva direttamente dall'ANAS che consiglia inoltre anche il percorso all'alternativo consigliato che prevede in direzione dell'autostrada A19 Palermo Catania l'uscita statale al chilometro 59 900 sulla strada statale 640 direzione raccordo di per trapezia con immissione sulla strada statale 626 fino all'innesto con la 640 al chilometro 72 500 l'itinerario inverso per i veicoli diretti verso Agrigento ultimo appuntamento dell'83 stagione concertistica gelese promossa dalla associazione Amici della musica Giuseppe Navarra domenica 29 gennaio alle 19 nei locali del Palazzo della Cultura Principessa Pignatelli Roviano si trarà il concerto del duo Maria Natalia Ruscica al violino e Simone Campanella al pianoforte la pagina del cinema all'antidoto di Machitella a Gela oggi alle 19.30 e alle 21.30 sarà proiettato il film Babbo Bastardo 2 con la pagina dedicata allo spettacolo noi chiudiamo le informazioni di oggi vi ricordiamo che servizi e notizie possono essere consultati attraverso il nostro sito online all'indirizzo tg10.it grazie e arrivederci a tutti a tutti Grazie per la visione!